In preda ad una forte crisi emotiva ha tentato il suicidio con un grosso coltello appoggiato alla gola minacciando anche di lanciarsi dal secondo piano del suo appartamento ma il tempestivo intervento dei carabinieri in un'abitazione di San Mauro Cilento ha permesso di salvare la vita ad un 54enne. L'uomo che dapprima ha avuto un diverbio con la madre procurandogli delle lesioni è stato messo in salvo dai militari dell'arma che prontamente intervenuti dopo averlo riportato alla calma sono riusciti a disarmarlo rimettendolo poi alle cure del personale medico del 118. I fatti seguono di pochi giorni quanto sulla falsa riga si è verificato mercoledì scorso a Ponte Cagnano Faiano. Anche in questo caso una donna di 51 anni aveva minacciato di togliersi la vita con un coltello in evidente stato di crisi emotiva. La donna completamente sopraffatta aveva minacciato di togliersi la vita ferendosi con un coltello. Fortunatamente i militari sono intervenuti anche in questo caso tempestivamente e grazie alla loro professionalità e dedizione sono riusciti a mettere in salvo la donna 51enne del posto. I due episodi confermano l'importanza delle chiamate al numero di emergenza 112, la centrale operativa che permette immediatamente di localizzare l'utenza ed inviare una pattuglia sul posto.